Ed eccoci al resoconto della settimana numero 2 per quanto riguarda i guadagni fatti su Trade Santa, il bot che utilizzo per fare trading su Binance. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide, andiamo a vedere cosa è successo per quanto riguarda Trade Santa in questa settimana. E' una settimana che mi è andata benissimo e soprattutto ho fatto alcuni Trade che diciamo stavo provando eppure mi sono andati da Dio andarmi a portare dei guadagni eccezionali che non mi sarei mai aspettato di riuscire a ottenere soltanto in una settimana. Come al solito tutto ciò che andrò a dire non sono consigli finanziari ma soltanto opinioni personali e studi fatti nel tempo quindi non seguitemi alla lettera anche perché anche io stesso sto ancora testando questo bot per capire come funziona nella migliore maniera. Ed eccoci qui subito alla ciccia, allora ragazzi ho fatto 40 dollari, si intanto sta andando un bot, ho fatto 40 dollari all'interno di una settimana, anzi in realtà devo levare il 21 e il 20 perché sono due giorni che praticamente fanno parte della settimana scorsa. Quindi dobbiamo calcolare circa dal 22 fino a ieri, fino al 29 e oggi ho fatto soltanto 5 centesimi ancora perché purtroppo ho avuto da fare, non sono riuscito a metterlo sotto in maniera seria il bot, quindi ho fatto circa 35 dollari, quindi oltre il 10% nell'arco soltanto di una settimana. Questo cosa ha portato? Mi ha portato a capire che questo bot ha una potenzialità assurda, logicamente bisogna essere capaci di utilizzarlo perché vedete questo spike diciamo nei guadagni di 12 dollari in un giorno? L'ho ottenuto andando a fare tantissimi short all'interno della settimana, anzi all'interno del giorno proprio perché bitcoin in quel giorno stava volando e quindi tutte le criptovalute che stavo tradando in quel momento hanno incominciato a scendere di valore e io ho shortato su tutte le criptovalute. In quella maniera sono riuscito a portarmi a casa dei guadagni eccezionali, addirittura come vedete 12 che poteva essere tranquillamente anche soltanto una settimana e comunque mi sarebbe andata da dio. Poi ci sono stati giorni oltre quello da 5, da 4, da 3, insomma diversi giorni. Oggi mi sta andando un po' maluccio ma dobbiamo anche capire che ripeto bisogna starli dietro per almeno una mezz'oretta al giorno per impostarlo e vedere quale criptovalute andare a lavorare in quel giorno e quali non. Come vi ho detto non è un bot che va totalmente in automatico, è un bot che va a lavorare su dei trade molto semplici che dovete impostare voi ma va in automatico nel portarli avanti. Quindi in questa maniera lui andrà ad aprire le posizioni in long e in short in base alle impostazioni che le avete dato voi in automatico basandosi logicamente sull'andamento del prezzo della criptovaluta che avete scelto. Vi faccio anche vedere cosa mi ha portato questi guadagni in questa settimana. Allora in questa settimana mi sono tornati indietro a livello di guadagni qualcosa di interessante grazie a logicamente un long su bitcoin poi un long su ethereum. Ho fatto anche poi dei long e degli short molto più intensi quindi btc land, btc pearl che in questo momento si sta caricando, poi btc band, btc vtho e btc link. Quindi in questa maniera sono riuscito a shortare tutte queste criptovalute e a portarmi a casa qualcosa di abbastanza interessante. Infatti vedete ho fatto 21 centesimi, ho fatto 5, molti 1 e 2, tantissimi, alcuni addirittura hanno chiuso a 0 per quanto insomma erano piccole le quantità di criptovalute. 5 centesimi, sono contentissimo di aver fatto questo risultato anche perché praticamente mi fa capire qual è il vero potenziale. Devo fare una correzione a un qualcosa che ho detto l'altra settimana, ossia il bot non dura un mese come utilizzo, può durare una settimana come utilizzo standard quindi con la possibilità di poter utilizzare 50 bot se non sbaglio e dopo la settimana scatta la chiusura dei bot. Quindi in questa maniera potete utilizzare solo e soltanto due bot per sempre con un massimo di volume di scambio di 3.000 dollari. Quindi non sono volumi di scambio delle vostre criptovalute ma se dovete guadagnare per esempio vedete qui 11 dollari, io per guadagnare 11 dollari ho scambiato circa 2.700 dollari di scambio al valore attuale. Anzi anche un po' di più perché stiamo a oltre i 10.000 dollari. Inoltre c'è un'altra possibilità di poter fare come vedete qui 5.390 dollari di scambio per andare poi a guadagnare 29 dollari utilizzando BUSD. Quindi come state capendo bene io non vado a utilizzare solo e soltanto BUSD o BTC insieme ma per andare a generare quel guadagno vado a fare così tante transazioni che accumulate portano ad avere un ritorno di quel genere ma sicuramente un volume di scambio di all'incirca 8.000 dollari con soltanto 300 dollari all'interno del wallet. E' logico che se avessi avuto sicuramente più fondi e quindi avessi anche aumentato le puntate e magari anche le percentuali di guadagno di ogni trade avrei fatto sicuramente di più ma questo è anche vero che capirlo alla seconda settimana è abbastanza importante. Come vedete dall'altra settimana è scesa la quantità di Bitcoin che possiedo ma questo in realtà sono andato a vedere non è la reale quantità di Bitcoin posseduti ma è la stima del nostro portafoglio in Bitcoin. dato che Bitcoin è salito di prezzo e io avevo una grossa quantità di BUSD logicamente è scesa la quantità di Bitcoin perché è salito il prezzo e quindi con quei BUSD potevi andare a acquistare una quantità minore di Bitcoin come anche di Ethereum e quant'altro. Ma la quantità di dollari è salita proporzionalmente proprio perché comunque all'interno del portafoglio avevo dei Bitcoin avevo degli Ethereum e quindi grazie proprio a questa cosa mi è comunque aumentata la... mi sono aumentati i soldi. Inoltre ho pagato 20 dollari perché il costo del bot a meno che non ci sono delle promozioni costa 20 dollari mensili o a meno che non ti compri l'annuale che arriva mi pare addirittura a 10 dollari mensili se compri un annuale intero. Comunque ho pagato 20 dollari per un mese solo e per andare a continuare a vedere se mi va bene insomma il bot e devo dire che è andato veramente da dio sono contentissimo. Ultima cosa vi mostro in tempo reale il mio portafoglio che sta lavorando perché basta vedere insomma questo o lo sia tutte le scritte in dorato sono tutte le criptoalute che ho sbloccato quindi che non sono bloccate in un trade ma sono totalmente sbloccate. Mentre il numero di sopra è la quantità totale di criptoalute che io possiedo di per esempio di Bitcoin sono 0,21 di Ethereum sono 12 BNB 0,61 ecco in questo e così via. Quelli bloccati sono logicamente questa quantità meno questa quelli invece sbloccati che posso ancora utilizzare sono quello che c'è scritto sotto. Come potete vedere qui c'è scritto anche una specie di storico dell'aumento del mio portafoglio quindi siamo partiti da 281 dollari siamo arrivati a 298 la settimana scorsa lo gigante questi si riaggiorna ogni giorno perché come vi ho già detto con l'aumento di Bitcoin può salire e scendere in realtà. Quindi qui abbiamo 303 dollari poi 294 317 316 319 318 320 quindi vedete che sale e scende a seconda logicamente della valutazione della quantità di criptoalute che io ho all'interno del mio portafoglio in Binance su questo account. E per quanto riguarda quindi la settimana per la seconda settimana di Trade Santa è tutto il prossimo video molto probabilmente sarà o un video che darà diciamo un'infarinatura generale di tutta la piattaforma di Trade Santa perché la sto studiando e sto iniziando a capire bene come funziona quindi posso permettermi di darvi una specie di tutorial base per farvi capire come può andare questo trade come può funzionare questo questo bot. Inoltre ci sarà logicamente il video di chiusura a mensile per quanto riguarda tutti i miei investimenti e sto cercando di organizzarlo in maniera un po' più professionale quindi fare alcune piccole slide per darvi la possibilità di avere una visione migliore di tutto il mio portafoglio. E con questo quindi concludo, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, commentare qui sotto, iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare e andare a visitare il mio account Instagram DavideVasco85. Grazie per aver visto il video e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!